Eccoci qua, se mi aprono sì, perfetto, il microfono è aperto e adesso un gruppo veramente meraviglioso. Arrivano dalle islands e dalle isole della Scozia, il loro sound unico ed energico e la vibrante presenza scenica li hanno portati a scalare velocemente le vette del panorama musicale scozzese, diventando una band tra le più ammirate della Scozia, nel 2016 hanno pubblicato il loro album riscuotendo un gran successo, hanno vinto diversi premi prestigiosi e si esibiscono in festival di tutta Europa, Germania, Francia, Belgio, con due membri in più nella band di quando sono stati qui su questo palco anni fa. Sono già stati appunto apprezzatissimi da tutti voi, informazione nuova con sei elementi, è il momento di accoglierli con un applauso, sono con noi gli oro! come oggi! come oggi! come oggi! come ogni? come ogni? come ogni? come ogni anno chi.. come ogni? perchè vi ha dimostrano sinistra dialogue Grazie a tutti 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 Grazie a tutti